È una palese follia dell'Italia, noi abbiamo il montante totale delle tasse, il total tax rate si chiama, che è il 68,3%, un paese vicino al nostro che è la Slovenia, quindi non stiamo parlando di Cina o d'India, la Slovenia ha il 34, che è l'esatta metà, come possiamo pensare di poter essere competitivi? Scusi, spiega per favore a una persona che non sa nulla di tasse cos'è quella parola inglese che ha detto? È il montante totale delle tasse che uno paga tra quelle dirette e indirette, noi abbiamo il doppio della Slovenia. Più IRPEF e tutte queste robe qua, più l'IVA e tutte queste robe qua, alla fine dell'anno, tra quel che ha pagato direttamente di stipendio, quel che paga sulle bollette del gas, quella roba lì vuol dire, l'IVA e c'è. 70% quasi, vuol dire che un'impresa lavora fino a luglio per pagare le tasse. E posso soltanto aggiungere una cosa, la signora su cui avete fatto il servizio, che ha detto io continuo a pagare Equitalia, ho dovuto ratezzare con Equitalia, però i soldi che avevo li ho utilizzati per pagare i dipendenti che ho dovuto mandare via, probabilmente quindi dargli il KFR, quella è un'eroina. Non il Marchionne, imprenditore, grande imprenditore, col Presidente del Consiglio che va a festeggiarlo come esempio nazionale, un imprenditore che sposta la sede all'estero per pagare le tasse all'estero. E' inaccettabile, tutte le risorse, l'impegno invece bisognerebbe impiegarlo per dare una risposta con un abbassamento drastico delle tasse, noi abbiamo proposto la flat tax, una tasse uguale per tutti al 15%. Che ne pensa delle proposte di Renzi? Le presentiamo a Scani. Guardi, se c'è da abbassare le tasse noi siamo disponibili a collaborare, la nostra preoccupazione è che non avvenga come i famosi 80 Euro, dove sono stati dati ad alcuni 80 Euro, dall'altra parte per trovare quelle coperture sono stati fregati non 80 ma centinaia di Euro da altre parti, per esempio hanno tagliato le risorse a tutti gli enti locali e gli enti locali virtuosi, cosa hanno dovuto fare? O tagliare i servizi o aumentare le tasse, basta chiederle a qualsiasi cittadino e vorrei capire chi dice che l'altro anno ha pagato meno tasse, nessuno.